La Giunta regionale ha deliberato lo stato di calamità ed emergenza per le aree colpite da nubi fragili tra il 2 e il 4 novembre scorsi e che hanno interessato i territori delle province di Agrigento, Caltanissette e Palermo. Presente in due distinte delibere l'elenco dei comuni che nei giorni scorsi ne avevano presentato richiesta. Per la provincia di Agrigento, oltre al capoluogo di provincia, sono stati inseriti i comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cammarata, Campobello di Licata, Casteltermini, Cianciana, Favara, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Palma di Montechiaro, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina, Sciacca e Villa Franca Sicilia. Intanto sarebbe previsto l'arriva a Sciacca lunedì prossimo di Stefano Candiani, sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno, in giro per la Sicilia per una ricognizione dei danni. Secondo indiscrezioni a caldeggiare la sua presenza sarebbe stato l'ex sindaco Mario Turturici. Frane, esondazioni, smottamenti, danni alla viabilità principale e secondaria, del reticolato idraulico alle attività produttive, agricole e commerciali, danni ad edifici pubblici e privati e dei sottoservizi all'interno delle aree urbanizzate, oltre che 12 vittime e un disperso. Sono più che note purtroppo le conseguenze dei nubi fragili che si sono susseguiti nelle tre province colpite. Continueremo a chiedere lo stato di emergenza al governo, ha dichiarato giorni fa il governatore siciliano Nello Musumeci. Speriamo davvero che da Roma ci possa arrivare una risposta, capire l'entità dello stanziamento che intendono deliberare, ha concluso il Presidente della Regione.